Io ho diversi amici con cui passo molto il tempo, Marco è uno di questi ma ce ne sono anche altri in giro per l'Italia e comunque confrontandoti, giocando spesso assieme si migliora assieme in linea di massima, comunque sia amici anche al di fuori, anche se non si gioca assieme sia amici, al tavolo un po' meno però spero di vincere un torneo importante in linea di massima cioè più su un EPT, una bushop, una cosa del genere E ti stai preparando in qualche modo o semplicemente continui a giocare? No, sto giocando parecchi tornei, sono molto motivato quindi dovrebbe arrivare in linea di massima Tu com'è che organizzi il tuo planning da giocatore tra l'online e il live? Quali sono le scelte e i parametri che segui? Io di solito gioco più o meno, quando sono in trasferta gioco solo live, quando sono a casa gioco molto al computer faccio un po' 50-50 e cerco di staccare, dopo che magari ho fatto due o tre tornei live, cerco di staccare un mesetto e sto a casa